Franca, una cortesia, quando giovedì ti mandi la farina d'allegra, va bene in quel modo l'ordine, ti devi mettere per cortesia un sacco di prodotto, quale prende quello viola lui? Ma da come si muove proprio? E vabbè fammi il favore, magari io lo mandi con una bolla, io lo mandi sospeso, vedi tu, basta glielo fai arrivare. Guarda le aline, guarda le aline, guarda le aline, guarda le aline, guarda le aline. Calamaro, guarda c'è il nero in punta, guarda, ma è bello il Calamaro. Ma sai come tira, la tampa fa così, prova, non perdere tempo tanto, prova, prova. Hai ragione.